ciao a tutti bentornati nel mio canale la luna nera benvenuti noi iscritti io sono silvia oggi chiediamo alle nostre amiche chiacchierine se lui ci pensa ancora quindi un'altra domanda sui sentimenti smazziamo continuiamo a tormentarci per questa nostra storia e speriamo sempre in un ritorno vediamo nella stesa che cosa ci dice prendiamo le nostre carte allora da queste prime due carte si direbbe di sì anche se comunque ci sono delle persone che amiche sue che lo consigliano male che secondo loro non è il caso di rifarsi vivo o viva vediamo cosa però comunque qua mi dice che lui per fortuna non ascolterà i consigli del gatto e la volpe qua amici suoi e si farà comunque sentire ed è una cosa che vi farà molto piacere perché è come se vi regalassero una seconda possibilità con lui bene questo è quello che mi dice mi hanno detto le mie amiche chiacchierine vi ricordo i miei contatti che li trovate qui sotto nella descrizione del video riducendo l'immagine trovate le mie email contatti telegram cellulare tutto quello che volete se mi volete contattare senza problemi io sono qui appena possibile vi rispondo volentieri per il momento è tutto vi invito comunque per chi non l'avesse ancora fatto a iscriversi al mio canale così saremo in contatto e non non perderete i prossimi video perché verrete avvisati assolutamente senza impegno da youtube tramite una notifica quando io caricherò un prossimo video per il momento è tutto vi ringrazio per l'attenzione buona giornata ciao a tutti da silvia